L'Oscar per il figlio di Saul come miglior film straniero è una vittoria per tutto il cinema ungherese. Al Club Ötkert di Budapest la cerimonia è stata seguita con grande partecipazione, il trionfo è stato prima sperato, poi festeggiato. Tra i presenti molti attori e registi e qualche professionista che ha preso parte alla lavorazione del film. L'effetto visivo è unico e il suono della voce è completamente diverso da quello a cui siamo abituati. Il compositore Laszlo Melis spiega. Abbiamo inventato una musica non udibile, creata solo dall'atmosfera, dai rumori. Poi ho messo la musica. Questo si può sentire se si ascolta bene. Oltre al sonoro va alla regia di Laszlo Nemes e all'interpretazione di Gesa Roerig il merito di aver saputo trasmettere l'orrore di un lager nazista. Dopo il successo ai Golden Globe in Ungheria molti speravano che il figlio di Saul vincesse gli Oscar. In tutto il mondo si parla di questo film in termini lusinghieri. Questo successo apre le porte ad altri film. Grazie. 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 Grazie.